Serietà, vorrei fare un accenno al tema e all'urgenza della serietà. Un evento come quello dell'epidemia, questo era comprensibile, prevedibile, inevitabilmente messo in moto un universo di parole, il quale però, e anche questo forse era prevedibile, si è spesso trasformato in una fiera delle chiacchiere. Tutti hanno parlato, tutti hanno detto la propria e soprattutto tutti si sono sentiti investiti dal compito di affrontare i grandi temi morali della vita dell'uomo e così via. Forse ora è arrivato il momento di prendere un po' le distanze da questa chiacchiera, di evitare la chiacchiera e di seguire il suggerimento di Papa Francesco che appunto diceva dobbiamo diventare esseri seri con le cose serie. Grazie Grazie Grazie